Simone Farelli della Serie B alla Lega Pro, un'alta Lega Pro come quella di Arezzo, con quali aspettative arrivi in questa nuova piazza che sta vivendo un momento molto bello dal punto di vista dei risultati e dell'entusiasmo? Sì, come dicevo prima ai tuoi colleghi, sicuramente nella scelta di scendere di categoria c'è la voglia e il desiderio di trovare un po' più spazio rispetto a quello trovato magari nell'ultimo periodo e alla base della scelta c'è senz'altro l'importanza di una piazza come Arezzo, l'importanza di una classifica che l'Arezzo ha conquistato meritatamente e anche il desiderio di lottare per obiettivi importanti come quelli delle prime posizioni. Tu hai avuto molti allenatori in passato che sono passati da Arezzo, che cosa ti è rimasto in testa di quello che ti hanno detto? Penso a Cosmi, a Conte, a Mario Somm? Sì, sono tutti quanti allenatori che nell'esperienza che ho avuto con loro mi hanno saputo trasmettere qualcosa di importante. La cosa un po' più curiosa è che tutti gli allenatori che ho avuto hanno avuto modo di conoscere Arezzo per il grande entusiasmo perché ognuno viene ricordato da Arezzo per aver fatto campionati importantissimi. Spero che tutto questo riesca a portare fortuna a me e all'Arezzo per toglierci di nuovo delle grandi soddisfazioni che credo che questa città meriti perché da troppi anni ha vissuto magari momenti più bui fin passando dalla Serie D e quindi credo che la gente abbia diritto di sognare nuovamente. Sei stato molte volte da avversario qua al Comunale, c'è un ricordo che ti torna in mente quando pensi ad Arezzo? Beh, ho sempre notato, tutte le volte che sono venuto, al di là della posizione di classifica c'è sempre stata una curva piena. Domenica con l'Alessandria mi sembra che l'entusiasmo abbia riportato molta gente allo stadio. Credo che tutto questo entusiasmo vada cavalcato da noi giocatori ma anche dai tifosi affinché lo stadio sia sempre più pieno perché sicuramente uno stadio gremito può spingere la squadra a fare qualcosa di più e andare sicuramente a gettare il cuore al tuo ostacolo. Tu conosci Benassi non da ieri ma da diverso tempo, ti chiedo se lo hai sentito, se ci hai parlato. Domenica che aspettativi hai per la partita? Sei pronto già per scendere in campo dall'inizio? Sì, Max ci conosciamo da qualche anno, perché giocavamo insieme quando erano nella Beretti del Siena, parliamo di diversi anni fa. L'ho sentito per messaggio, mi ha fatto un in bocca al lupo, sono venuto praticamente nella sua seconda casa perché lui è aretino d'adozione. Per quanto riguarda la partita di domenica, chiaramente le scelte spetteranno al mister, da parte mia c'è massima disponibilità sia mentale che fisica perché ho avuto modo di allenarmi con continuità dall'inizio dell'anno, di giocare l'ultima partita, l'ho giocata a dicembre. Quindi fisicamente e mentalmente sono pronto, poi chiaramente tutto quello che riguarda le scelte riguarda non solo ed esclusivamente il mister.